Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo della storia che ho condotto dal liuto arabo alla chitarra flamenca. Partiamo innanzitutto dall'esplorazione di che cos'è il liuto arabo. Intanto il nome del liuto in arabo è Aoud, che significa letteralmente pezzo di legno. Da questo nome Aoud al Aoud sono venuti poi i termini europei che definiscono appunto il liuto. L'Aoud per esempio in spagnolo è proprio chiaramente al Aoud e la stessa parola liuto è evidente che viene da lì. L'Aoud è uno strumento a corde che appartiene alla famiglia dei liuti, anzi è proprio il nonno della famiglia dei liuti, il progenitore della famiglia dei liuti. Ha un manico stretto e corto e una grandissima pancia, molto molto bombata. Proprio visto di profilo il liuto arabo, appunto l'Aoud, è fatto come una mezza pera. La cassa è decorata con tanti spicchi di legni diversi, molto bella da vedere fra l'altro. E ha la caratteristica di avere un manico sottile, come quello di un mandolino, che non ha tasti. Il manico è fatto come quello di un violino, per capirci. Non essendo suddiviso in tasti permette assolutamente al musicista di produrre qualsiasi intervallo di note. Al contrario, sul manico della chitarra ci sono dei tasti che suddividono le possibilità di produrre il suono in semitoni precisi, tutti uguali tra di loro. Quindi sul manico di una chitarra non è possibile produrre questi microintervalli che sono invece tipici della musica araba. L'Aoud è lo strumento principale della musica araba, in particolare della musica araba di origine colta, ma anche in molti casi della musica popolare. Per molto molto tempo l'Aoud ha rappresentato proprio il sistema musicale arabo stesso, tant'è che gli arabi lo chiamano Amir Tarab. Amir è il principe, come conosciamo anche senza sapere l'arabo, e il Tarab, che significa letteralmente fascino, coinvolgimento. Il liuto arabo è un fenomeno molto importante nella musica araba, che trova nel flamenco forse il concetto più simile nella parola duende, che significa essere completamente concentrati all'interno di un fenomeno, in particolare del fenomeno musicale, ed essere in contatto con un aspetto sovrumano, quasi divino. Quindi il liuto arabo è il principe di questo Tarab. Di questo essere in contatto con qualcosa di superiore. Nella musica araba il liuto si presenta sia come strumento solista, che come strumento di accompagnamento al canto, in particolare appunto nell'ambito della musica colta. L'Aoud si è diffuso in tutto il mondo arabo, e ovviamente quando esisteva all'Andalus, cioè la Andalusia araba, l'Aoud era molto diffuso lì. In Spagna il liuto però si diffuse solamente nella musica di corte, quindi non nella musica popolare e rurale. Questo potrebbe avere diverse motivazioni. Sicuramente quello che accadde è che quando gli arabi vennero cacciati dalla Spagna, l'inquisizione spagnola mise da parte tutto ciò che ricordava la cultura araba, per cui lo strumento Aoud venne modificato, proprio dissimulato, e nacque un altro strumento chiamato viuela. È stato definito come viola a mano. È uno strumento che è praticamente assolutamente un liuto, però un po' diverso, e che ha un'accordatura identica a quella del liuto arabo, e quindi da questo si capisce proprio che è lo stesso strumento. Ma apparentemente è una specie di evoluzione. Sia il liuto che la viuela sono strumenti che sono stati usati dai trovatori, e quindi si sono diffusi parecchio in varie zone dell'Europa. In Spagna esisteva anche un altro strumento, la sitara, che veniva probabilmente dalla cetra greca, o forse era uno strumento portato dagli romani, comunque uno strumento che era presente sul territorio iberico da molti secoli. Quando arrivò il liuto aramo, venne portato principalmente all'interno delle corti. In particolare il famosissimo fu il musicista Ziriab, al quale fra l'altro il grande Paco de Lusia dedicò un disco, quindi lo considerò come una specie di pietra migliare, anche del flamenco stesso. Bene, Ziriab era un musicista di origine irachena, che lavorava come musicista, appunto, ma non solo, anche un po' come pensatore, oggi diremmo come influencer, alla corte di Cordova. Spendiamo due parole riguardo al musicista Ziriab. Nel nono secolo, quando visse, Ziriab, che era sia musicista che anche, fra l'altro, cantante, era molto attivo in Andalusia, e appunto soprattutto alla corte di Cordova. Assunse una popolarità incredibile, tant'è che qualsiasi cosa Ziriab facesse, diventava una moda. Per questo prima dicevo che oggi si sarebbe chiamato influencer. Addirittura, se Ziriab indossava abiti particolari anche un po' stravaganti, subito a Cordova diventava una moda e la gente cominciava a fare altrettanto. La sua eredità musicale è rimasta molto fortemente radicata nella cultura musicale locale, tant'è che appunto Paco de Lusia, come ti raccontavo, gli ha dedicato un disco. Lo strumento che suonava Ziriab era proprio il liuto arabo, l'Aoud. Fino ad allora, fra l'altro, l'Aoud aveva soltanto quattro corde, quattro corde doppie. Le quattro coppie di corde tradizionali, più antiche dell'Aoud, venivano identificate con i quattro umori del corpo, i quattro temperamenti del corpo, la bile, il sangue, la flemma e la bile nera. Questo ci indica come nella musica araba tradizionalmente ed anticamente la componente emozionale del suono avesse un'importanza profondissima, esattamente come nel flamenco del resto. Grazie a Ziriab ne venne aggiunta una quinta. Anche la chitarra ebbe una storia del genere in Spagna. Inizialmente aveva solo quattro corde. Ad un certo punto comincia a comparire la chitarra, che è quasi una via di mezzo tra il liuto e la viauela. Nel 1600 viene aggiunta a questo strumento nascente una quinta corda, quindi un po' su imitazione di quello che fece già Ziriab ancora prima dell'anno 1000. Nel 1700 viene aggiunta alla chitarra una sesta corda, che viene chiamata Bordon, come si chiama ancora oggi la corda più grave della chitarra flamenca. Nel 1800 la chitarra in Spagna veniva identificata tantissimo con la musica gitana, quindi veniva identificata con situazioni di osterie, di malavita, non certamente di benpensanti o di gente rispettabile. Quindi stava rischiando come strumento di cadere un po' in disuso a favore invece di strumenti più nobili, tra virgolette, come il pianoforte o il violino. Ma ritorniamo alla hud. Non avendo i tasti, la hud si presenta molto bene come strumento di accompagnamento del canto. Sappiamo che il canto arabo è esattamente come il canto flamenco prevede tutta una serie di melismi, di ornamentazioni, di vibrati e quindi la produzione da parte del cantante di note non troppo razionali, non troppo prevedibili e sicuramente non scrivibili con grande precisione su un pentagramma. Anche la musica araba esattamente come il flamenco è una musica essenzialmente di tradizione orale, persino anche quando è musica colta. Certo, oggigiorno esistono i conservatori, esattamente come accade per il flamenco, anche nel mondo arabo esistono i conservatori, per cui anche la musica araba ha cominciato ad essere scritta, ma nella sua tradizione non lo era. E la cosa importante era che il musicista potesse mantenere una sua libertà interpretativa, ecco, esattamente come nel flamenco. Però ad un certo punto il flamenco produce un fenomeno particolare che è quello di riversare totalmente l'accompagnamento del cante flamenco che rimane irrazionale e non divisibile precisamente in toni e semitoni con uno strumento invece che è la chitarra che ha un manico appunto diviso in toni e semitoni. Questa apparente contraddizione rende in realtà quasi più facile al cantaor spaziare liberamente nei dintorni di una nota. Che cosa voglio dire con questo? Abbiamo parlato lungamente in vari podcast della cadenza andalusa. Le ultime due note della cadenza quelle più gravi distano tra di loro soltanto di un semitono sarebbero come un fa e un mi. Bene quando la chitarra flamenca insiste su queste due note indica un ambiente sonoro molto circoscritto nel quale però il cantaor è completamente libero di creare e non ha l'obbligo di aderire né all'una né all'altra di queste due note ma può con i suoi vibrati con i suoi ornamenti con i suoi melismi creare un disegno un ricamo intorno a queste due note quasi per definire uno spazio fisico intorno a queste due note questo è esattamente il principio con il quale l'aud accompagna la voce nel canto arabo l'accompagna aiutandola ripetendo esattamente quando il cantante sta improvvisando la melodia che il cantante ha appena finito di produrre più o meno non con una precisione millimetrica e questo perché perché sia l'aud che la chitarra flamenca hanno il grandissimo compito di aiutare il cantante a cantare meglio a ricordarsi quali sono le note su cui si sta esprimendo un'altra cosa che fece Ziriab fu quella di introdurre l'uso del plettro che veniva costruito con una penna d'aquila il plettro diede all'aud la possibilità di essere suonato in modo anche un po' scattante e di lavorare soprattutto principalmente su una corda per volta questa è una cosa che si trova ancora oggi nella chitarra flamenca che non è mai suonata con un plettro ma nella quale le unghie stesse del chitarrista sono usate in maniera abbastanza aggressiva sulle corde della chitarra e non solo sulle corde lo vedremo in un altro podcast questo a volte si ha l'impressione ascoltando la chitarra flamenca che effettivamente il musicista abbia in mano un plettro quando la chitarra flamenca fa la sua comparsa come accompagnamento del cante flamenco in effetti la tecnica chitarristica assomiglia molto alla maniera nella quale l'aud viene utilizzato nella musica araba per accompagnare la voce per capire quello che sto dicendo sarà sufficiente ascoltare qualche brano di musica araba colta e effettivamente noteremo che nell'improvvisazione vocale che è proprio il momento principe in cui la voce araba fa tutta la sua esplorazione espressiva ed è il momento in cui il cantante si può sentire più libero di dire la sua insomma di esplorare la sua emozionalità ecco in quel caso l'aud lo accompagna come ricordandogli l'argomento come deve fare il chitarrista flamenco e non c'è una frase ritmica di riferimento che vincoli l'espressività di questi due musicisti il cantante e appunto il liutista esattamente come accade per quello che sono i palos del flamenco più antichi più tradizionali sto pensando a tutti i fandangos grandes a una malaghegna ad una granaina ad una media granaina a tutti le tarantas i tarantos c'è una grandissima comunicazione tra chi suona e chi canta e lo strumento musicale segue la voce sostenendola e senza imporsi su di essa è come un dialogo nel quale uno che sarebbe il musicista fa da spalla all'altro al cantante quanto più ascoltiamo questo fenomeno in uno dei due generi musicali che sia la musica araba colta o il flamenco e tanto più lo capiamo nell'altro tante sono le parentele dal punto di vista musicale poi è chiaro che le melodie sono diverse sono generi musicali diversi però l'approccio l'atteggiamento dello strumento musicale nei confronti del canto è esattamente lo stesso il rispetto l'attenzione la cura il fatto di lasciare il silenzio di aiutare l'altro ad esprimere la propria arte la propria creatività il proprio sentire senza coprirlo sono Sabina Todaro mi occupo di flamenco e di musiche e danze del mondo arabo dal 1985 dal 1990 insegno baile flamenco a Milano ed un lavoro molto interessante sull'espressione delle emozioni attraverso le danze e le musiche del mondo arabo che ho chiamato lirico l'arab dance non ricordo più la mia vita prima di approcciare questi due generi musicali che ormai sono talmente profondamente ancorati nelle mie orecchie nel mio sentire nella mia espressività che non ricordo davvero quando questo si è iniziato non mi ricordo un prima la conoscenza della musica araba mi aiuta a capire il flamenco da un punto di vista emozionale e non razionale in effetti il flamenco non è una musica razionale è una musica fortemente irrazionale cosa indico con questo indico che pesca talmente tanto nell'emozionalità nel sentire del momento nella creatività personale del musicista che è assolutamente improponibile cercare di quadrarlo per ridere spesso dico ai miei allievi che nel flamenco è vero tutto il contrario di tutto e anche altre cose questo è solo per dire che non si può pensare di aver quadrato il cerchio perché proprio nel momento in cui mi sembra di aver capito tutto scopro che c'è qualcosa che esce completamente da ciò che avevo capito la musica araba è talmente irrazionale e il suono dell'oud è talmente dolce e coinvolgente ti porta veramente via in un'altra dimensione dove non esiste il tempo non esiste lo spazio esisti solo tu e le tue emozioni che mi sono davvero educata a questo mi sono davvero abituata a non aspettarmi che succeda una cosa a non aspettarmi che ad una nota ne segua un'altra lascio sempre il campo aperto non prevedo semplicemente mi godo quello che sento sia con le orecchie che con il corpo evidentemente insegnando molto spesso faccio riferimento a questo connubio tra queste due forme musicali è vero che il flamenco ha delle radici molto forti nella musica araba ne parlerò ancora molte altre volte in questi podcast però non è soltanto sufficiente nominare queste relazioni è importante anche ascoltarle mettersi proprio ad ascoltarle